ciao a tutti da vittorio la finestra estiva di calciomercato in italia si è chiusa lo sapete 30 agosto a mezzanotte si è chiusa ma in turchia è ancora aperta e questa è una cosa importante che riguarda la lazio perché perché il galatasaray sta cercando un tersino e il club turco sta facendo due trattative in contemporanea per prendere un tersino curiosamente il club turco sta trattando con i due club romani la lazio e la roma per un tersino con la roma sta provando a prendere zaleschi con la lazio sta trattando pellegrini ovviamente solo uno dei due giocatori finirà al galatasaray o forse nessuno bisogna vedere se trovano l'accordo questa è una trattativa da seguire con interesse una trattativa che un po mi lascia perplesso perché la lazio ha tra virgolette aperto a pellegrini bene pellegrini è uno dei quattro tersini in rosa alla lazio no baroni lo ha voluto già questo istante era arrivata un'offerta per pellegrini baroni ha detto di no la lazio era convinta di poter piazzare isai che anche in questa finestra di nazionale ha fatto bene con l'albania ma la lazio è stata incapace di vendere l'albanese che ripeto non sarà paolo maldini ma ripeto nazionale albanese anche capitano è un tersino tutto sommato buono niente di eccezionale ma neanche scarso uno che ha giocato tanti anni in champions però la lazio ha questo difetto cronico collotito di non riuscire a vendere i giocatori e quindi isai insieme ad akpat pro andrea anderson e basic è finito fuori rosa e quindi isai con basic akpat pro e andrea anderson è finito fuori rosa adesso galatasaray sta cercando un tersino ed è piombato su luca pellegrini la lazio avrebbe aperto per pellegrini perché sostanzialmente esce pellegrini entra isai e non perderesti tra virgolette i soldi che devi pagare a isai lo stipendio di isai è uno dei più alti nella rosa della lazio però secondo me cedere pellegrini sarebbe un errore non perché pellegrini sia un fenomeno ma perché se barone ha detto voglio pellegrini piuttosto che isai dovresti cercare di accontentare il tuo allenatore e invece la lazio ha aperto alla cessione di pellegrini se ovviamente galatasaray arriverà a roma offrendo almeno 4 milioni di euro che è la cifra che la lazio prossima estate dovrà pagare alla juetus per il riscatto che è già scattato per luca pellegrini la lazio ha preso pellegrini con il prestito per due anni con obbligo di riscatto e quindi la prossima estate la lazio dovrà pagare 4 milioni per il riscatto di pellegrini quindi lo tito dice se galatasaray mi offre almeno 4 milioni di euro per pellegrini la lazio lo lascia andare così la lazio paga i 4 milioni alla juventus per il riscatto l'anno prossimo inserisco isai in rosa e non perde tra virgolette i 3 milioni e 2 che devo di stipendio ad isai questo è il ragionamento della lazio ragionamento che obiettivamente non mi fa impazzire perché perché pellegrini è stato scelto da baroni baroni preferisce pellegrini a isai e quindi tu dovresti accontentare il tuo allenatore il problema della lazio non è vendere pellegrini il problema la lazio era vendere isai capisco che dal punto di vista economico avrebbe senso perché io non devo più pagare a vuoto isai i soldi che devo la juve di pellegrini mi da galatasaray e quindi dal punto di vista economico è una soluzione migliore però isai è più grande di pellegrini ma ha superato i 30 pellegrini è un giocatore secondo me può crescere abbastanza giovane io questa cessione non la farei obiettivamente non la farei la lazio deve cercare e deve cercare ancora in quei pochi mercati aperti di piazzare isai non pellegrini ma questo non sta succedendo e quindi verosimilmente se il galatasaray non chiuderà per zaleschi con la roma chiuderebbe per pellegrini della lazio e secondo me ripeto dal punto di vista qualitativo non è che ci perdiamo tantissimo però secondo me pellegrini non dovresti vendere anche perché stiamo vedendo che la lazio ha una rosa più fisica più dinamica rispetto allo scorso anno e baroni dopo lazio milan ha detto una cosa interessante ovvero che con nunio tavarez e pellegrini abbiamo finalmente tessini sinistri di pieto sinistro adesso se vendi pellegrini che è sicuramente più dinamico sicuramente più fisico di isai dai togli un'opzione a baroni e quindi secondo me sarebbe una soluzione sbagliatissima ovviamente questo è il mio giudizio qual è il tuo scrivi un commento qua sotto e noi ci rivediamo dopo un altro video grazie ragazzi grazie